Al termine della gara Euro-Girifalco Monasterace, vinta dal Girifalco 2-1 con rete di Trino e Quirino e Pilato su calcio di rigore. Siamo con il capitano Vincenzo Vitaliano. Sì, in effetti ci arrivavano dagli altri campi le notizie che Borgia stava perdendo e Mammo la stava perdendo, quindi noi al primo tempo abbiamo spinto un po' per portarci su, anche se non abbiamo giocato tanto bene perché redici da 5-6 persone dall'influenza, quindi il secondo tempo si è visto perché fisicamente non c'eravamo, quindi in settimana non ci siamo neanche allenati bene e quindi siamo calati un po', però siamo riusciti a tenere il risultato sul 2-1. Portandoci, secondo i risultati che ci arrivano, al quarto posto. Non speravamo questo, speriamo di mantenerlo per poter fare i play-off perché altrimenti il quinto posto c'è un divario troppo lungo per i play-off, quindi speriamo tutto bene. A questo punto, visto che è finito tutto bene, bisogna fare gli auguri a Roberto Stranieri che d'altra parte è stato sostituito alla grande da Sparaglio. Sì, noi facciamo tanti auguri, dedichiamo questa vittoria a Roberto che ha avuto dei problemi, si trova in ospedale, un saluto da parte di tutto l'Eurogirifalco, lo ringraziamo per quello che ha fatto, ringraziamo anche Spadacino che è venuto a sostituirlo dopo 4 mesi di inattività e l'ha fatto in maniera egregia, quindi ringraziamo anche lui. Un saluto a Roberto Galini. Grazie. Grazie.